In questo tutorial vediamo delle espressioni di riepilogo sui numeri interi. Partiamo da questo esercizio. Fisso la tensione all'interno di questo modulo. Ho meno 5 meno 15. Meno 5 meno 15 è pari a meno 20, ma il valore assoluto o modulo di meno 20 è pari a 20. Diviso. Questo meno 2 alla seconda lo posso sviluppare scrivendo direttamente 4. Ho poi meno 5 alla 0, che è pari a 1, con un segno meno di fronte e scrivo meno 1, tutto quanto all'ottava. Diviso. Qui ho una potenza di potenza e allora moltiplico 5 per 3, ottenendo meno 2 alla quindicesima. Ora 20 diviso 4 è pari a 5 e scriverò 5 meno 1, tutto quanto all'ottava, diviso meno 2 alla quindicesima. 5 meno 1 è pari a 4 e allora scrivo 4 all'ottava diviso meno 2 alla quindicesima. Ora devo eseguire questa divisione. Per applicare le proprietà delle potenze, questo 4 lo scrivo come 2 alla seconda e allora avrò 2 alla seconda all'ottava diviso. Visto che qui la base è 2, mentre qui è meno 2, vado a distribuire la potenza 15 e allora meno elevata ad una potenza dispari è meno e il segno meno lo ricopio di fronte e poi ho 2 alla quindicesima. Eseguo ora questa potenza di potenza ottenendo meno 2 alla sedicesima diviso 2 alla quindicesima. Ora ho la stessa base e allora 16 meno 15 è pari a 1 e scriverò meno 2 alla 1, ossia meno 2. In questo esempio fisso l'attenzione all'interno di queste parentesi quadre. Ho 3 alla decima diviso meno 3 alla quinta. Scritta così com'è non posso applicare le proprietà delle potenze in quanto le basi sono diverse e allora dovrò andare a distribuire la potenza 5 in meno 3 e allora apro una graffa, apro la quadra, più 3 alla decima, scrivo direttamente 3 alla decima diviso meno elevata ad una potenza dispari è meno che vado a scrivere di fronte qui e poi 3 alla quinta. Chiudo la quadra diviso meno 3 alla seconda, vado a distribuire questa potenza 2, meno elevata ad una potenza pari è più e quello che resta è 3 alla seconda. eseguo ora questa moltiplicazione, meno 10 per meno 2 ed ottengo più 20. Chiudo la graffa alla decima diviso, qui ho meno 7 all'ottava, posso distribuire la potenza 8, meno elevata ad una potenza pari è più e non scrivo nulla e poi ricopio 7 all'ottava. Ora qui all'interno ho la stessa base e allora posso applicare le proprietà delle potenze. Questo segno meno lo ricopio e 3 alla decima diviso 3 alla quinta sarà pari a 3 alla quinta, avendo fatto 10 meno 5, poi diviso 3 alla seconda. Il resto lo vado a ricopiare. Eseguerò la divisione, ho la stessa base e allora 5 meno 2 pari a 3 e scriverò meno 3 alla terza più 20 e il resto lo vado a ricopiare. Ora sviluppo questa potenza, meno 3 alla terza è pari a meno 27 più 20 alla decima diviso 7 all'ottava. Meno 27 più 20 è pari a meno 7, tutto quanto alla decima e diviso 7 all'ottava. distribuisco ora questa potenza 10 in modo tale da ottenere la stessa base, meno elevata ad una potenza pari è più e quindi scrivo 7 alla decima diviso 7 all'ottava. Ora ho la stessa base e allora applico le proprietà delle potenze. 10 meno 8 è pari a 2 e scrivo 7 alla seconda e 7 alla seconda è pari a 49. Vediamo quest'altro esempio. Fisso l'attenzione all'interno di queste parentesi quadre. Osservo che ho la stessa base meno 3 e allora posso eseguire la moltiplicazione utilizzando le proprietà delle potenze. Apro la graffa e 8 più 4 è pari a 12 e scriverò meno 3 alla dodicesima diviso. Qui ho una potenza di potenza, 2 per 5 ed ottengo 10 e scrivo meno 3 alla decima. Osservo poi che ho una divisione. La base è la stessa che è meno 2 e allora applico le proprietà delle potenze. Questo segno meno lo ricopio e ottengo meno 2, 11 meno 8 è pari a 3. Poi ho più meno 5 alla settima che ricopio così com'è diviso. Osservo che qui la base è la stessa che è meno 5 e allora sommerò 2 più 5 ottenendo meno 5 alla settima. Chiudo la graffa e poi tutto quanto diviso meno 3. Ora qui eseguo la divisione. Ho la stessa base e applico le proprietà delle potenze. 12 meno 10 è pari a 2 e scriverò meno 3 alla seconda. Qui ho un segno meno e un segno più e allora vuol dire che posso sviluppare la potenza di meno 2. Meno 2 alla terza è pari a meno 8 con un segno meno di fronte e scrivo più 8. Ora qui ho una divisione, ho la stessa base e faccio 7 meno 7 che è pari a 0 e quindi ho meno 5 alla 0 ma meno 5 alla 0 è pari a 1. Tutto quanto diviso meno 3. Sviluppo ora questa potenza ed ottengo meno 3 alla seconda che è pari a 9 più 8 più 1 diviso meno 3. 9 più 8 più 1 è pari a 18 diviso meno 3 e 18 diviso meno 3 risulta essere uguale a meno 6. In questo esempio inizio da questa moltiplicazione. Sommo 12 con 7 ed ottengo 2 alla diciannovesima diviso. Eseguo questa potenza di potenza, 3 per 6 è pari a 18 e quindi scrivo 2 alla diciottesima. Più, qui distribuisco la potenza 3, meno elevata ad una potenza dispari è meno, visto che ho un segno più di fronte, cancello il più e metto il meno. Poi meno 2 e moltiplico 2 per 3 ottenendo 6. Eseguo questa moltiplicazione, meno 5 per meno 2 che è pari a 10, per 6 e scrivo 60. Eseguo questa divisione, 19 meno 18 è 1 e quindi ho 2 alla 1 che è pari a 2. Poi vado a sviluppare questa potenza perché non vi sono segni di moltiplicazione e divisione. Questo segno meno lo ricopio e meno 2 alla sesta è pari a più 64. Visto che c'è un segno meno complessivamente avrò meno 64 e poi ho più 60. Ora 2 meno 64 è pari a meno 62, meno 62 più 60 è pari a meno 2. Vediamo quest'ultimo esempio e iniziamo da questa divisione. 8 meno 6 è pari a 2 e allora scriverò 2 alla seconda all'ottava, poi diviso 2 alla quattordicesima, tutto quanto alla terza, diviso 2 alla quarta, poi più, qui ho un'altra divisione, ho la stessa base e allora 8 meno 4 è pari a 4 e scriverò 3 alla quarta per 3 alla quinta, tutto quanto alla seconda, diviso. Ho una potenza di potenza e scrivo 3 alla sedicesima. Ora ho una potenza di potenza, 2 per 8 è 16 e scrivo 2 alla sedicesima diviso 2 alla quattordicesima, tutto quanto alla terza e poi ho diviso 2 alla quarta. Eseguo questa moltiplicazione, 4 più 5 è 9 e allora avrò 3 alla nona, tutto quanto alla seconda, diviso 3 alla sedicesima, eseguo questa divisione, 16 meno 14 è pari a 2 e allora ho 2 alla seconda, alla terza, diviso 2 alla quarta, più. Eseguo questa potenza di potenza, 9 per 2 è 18 e allora ottengo 3 alla diciottesima diviso 3 alla sedicesima. Eseguo questa potenza di potenza, 2 per 3 e allora ho 2 alla sesta diviso 2 alla quarta, più. Qui eseguo la divisione, ho la stessa base e allora 18 meno 16 è pari a 2 e scrivo 3 alla seconda. Eseguo questa divisione, ho la stessa base e allora 6 meno 4 è pari a 2 e scrivo 2 alla seconda più 3 alla seconda. Sviluppo ora le potenze, 2 alla seconda è pari a 4, 3 alla seconda è pari a 9 e 9 più 4 ottengo 13. E con questo termino il tutorial su espressioni di riepilogo di numeri interi.